Santerasmo invita Danila ad aumentare le piattaforme social che lui chiama Pagine per diffondere il suo messaggio. Santerasmo qui hai? E lì mi serve ottenere nuove Pagine. Urge. C'è peccati lì. A divulgarla mi vedi felice. La è Danila è. Danila di là dirà. È specialista di là. Con Danila vi do la verità. Con Danila vi do la verità.